Attraverso il processo si arriverà a stabilire la verità sulle cose ed è attraverso quest'aula che verrà fuori anche una nuova Reggio Emilia, quella dei prossimi anni, che avrà questo processo alle sue spalle, ma Reggio Emilia sarà cambiata. Io sono consapevole di questo stamattina qui, che vedo finire la vecchia Reggio Emilia con il suo territorio e vedo nasserne una nuova, soprattutto per la forza delle coscienze delle persone. Vedo qui studenti che entrano nell'aula e questa è la nuova Reggio Emilia.